Buongiorno amici, niente come dicevo poc'anzi, oggi finalmente posso mostrarvi in anteprima il mio primo lavoro artistico che riguarda il Covid-19, ovvero un archetipo. Niente, questo è il mio nuovo lavoro qui oggi a Milano che ho appena terminato e sono in grado di mostrarvi. Vedete? Questo rappresenta la bandiera italiana, e ovvero questi segni blu caratterizzano l'uomo che distante deve tenere la distanza a debito dall'altro. Questo lavoro intitolato Archetipo Covid-19, questa è una tavola, diciamo è un acrillico come tecnica su tavola. Vedete? Il bianco è un bianco, non è il bianco della tela, ovvero del cartoncino telato. Questo è un bianco avorio. Naturalmente c'è prima un fondo di acrillico, poi è ricoperto di un bianco avorio. Vedete? Poi ci sono i due colori che rappresentano la bandiera italiana e questi segni blu, vedete? In fondo sono tre colori. Rappresentano l'uomo, come dicevo poc'anzi. Niente, questo è solo l'inizio di questo mio nuovo lavoro. Poi naturalmente ne seguiranno degli altri, anche su carta. Intanto così saluti, voglio salutare a tutti gli amici e augurarvi un buon pomeriggio.